Siracusa ex albergo scuola giudicati i lavori di riqualificazione. Con l'aggiudicazione della gara per la riqualificazione dell'ex albergo scuola di Siracusa raggiungiamo un importante risultato nel quadro del nostro programma di risanamento urbano dell'isola attraverso la leva delle politiche abitative. Da un immobile in abbannono da decenni, emblema di degrado e inefficienza, ricaveremo quasi 40 moderni alloggi IACP per le famiglie che ne avranno diritto, oltre a restituire il decoro voluto dai cittadini a un'area strategica del capoluogo Aretuseo. Lo afferma il Presidente della Regione Nello Musumeci commentando l'avvenuta giudicazione da parte dell'Urega di Siracusa dell'appalto IACP per i lavori di rifunzionalizzazione dell'ex albergo scuola di Siracusa in Corso Umberto. Il recupero di questa storica incompiuta nel cuore della città, aggiungono gli assessori regionali Marco Falcone e Edi Bandiera, avviene grazie al progetto di housing sociale Coabitare Siracusa messo a punto dall'Istituto Autonomo Case Popolari. A questa svolta sul piano delle politiche abitative e impegno mantenuto dal Governo Musumeci si accompagnerà la rigenerazione del quartiere a ridosso della stazione ferroviaria di Siracusa attraverso la creazione di spazi per il verde e le attività commerciali, contestualmente alla ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico dell'ex albergo scuola. La riqualificazione dell'ex albergo scuola di Siracusa ormai da decenni nel più totale abbandono è l'emblema di un nuovo corso impresso dall'attuale coalizione di Governo, ricostruire dopo le macerie del passato. Nello specifico recuperando tale spazio urbano e convertendolo in moderni alloggi ACP si garanterà una concreta azione di inclusione sociale che è specie in questo frangente storico e di stretta attualità. Mi congratulo con il Governo e nella fattispecie con l'assessore a ramo Marco Falcone perché nell'ottica di una pianificazione urbana saranno create anche attività commerciali e aree verdi nel quartiere a ridosso della stazione ferroviaria, così afferma in una nota la deputata di Forza Italia a Lars, onorevole Daniela Ternullo.